16esima giornata per la Champions Cup amatori, il Beverly Inps in un buon momento di forma vuole continuare la propria scalata in classifica, il Papo invece cerca punti pesanti per evitare la lotteria dei play-off e accedere direttamente alla seconda fase. Parte fortissimo il Beverly, Azzori lancia a Kosu che tutto solo davanti a Pina, non sbaglia, portano in vantaggio il Beverly Inps quando siamo al terzo minuto della prima frazione. Il raddoppio 3 minuti più tardi, azione fotocopia ma a parte invertita e Kosu per Azzori che da dentro l'aria non perdono a trovare il raddoppio per il Beverly quando siamo al sesto minuto. Il Beverly ad un passo d'alto a 0, bel lavoro di Azzori che scappa via, entra in aria, va alla conclusione ma Pina riesce a metterci una pezza. Il Beverly continua a macinare il gioco sfiorando ancora una volta 3 a 0, qua Azzori lancia l'USU tutto solo ma Pina esce tepestivamente salvando il Papu. Ancora una ghiottissima occasione per il 3 a 0, con Kosu che colpisce il palo poi Azzori perché l'equilibrio non riesce nel tap in. Il Papu prova ad affacciarsi in zona offensiva, Sarigu vince un contest al limite, il numero 69 si prepara e va alla conclusione, ma Lekka salva il Beverly rifugiandosi in angolo. Al quindicesimo l'USU da calcio piazzato si inventa questa pennellata che termina sotto l'incrocio ed è 3 a 0 per il Beverly Inps sul Papu. Sarigu prova la torsione volante, ma Lekka blocca senza difficoltà e al tramonto della prima frazione il Beverly trova il poker, palla di LUSU per Mameli che davanti al portiere non sbaglia portando sul 4 a 0 il risultato. E su questa conclusione provata da Serra che termina sul fondo arriva il duplice fischio del direttore di gara, le squadre vanno a riposo con il risultato che recita Beverly 4 Papu 0. Parte forte il Beverly in questa seconda frazione, LUSU prova la semirrovesciata, Pina ci mette una pezza, poi il numero 1 salva sul Tapina Maranto. Il Beverly continua a spingere, palla di LUSU per Azzori che si coordina perfettamente, ma il palo ferma il numero 5. Al 3 dal cinquesimo arriva il 5 a 0 per il Beverly Inps, Kossu porta palla, serve Azzori che invece di tirare restituisce palla al compagno che vede Mameli tutto solo e libero di timbrare la doppiata personale. Il Beverly continua a spingere, Urru scappa via, chiede l'1-2 con Azzori che avviene, ma il numero 8 viene chiuso da Pina, bravo a salvare il Papu. L'estremo difensore del Papu, protagonista poco più tardi di un gran intervento sul colpo di testa di Azzori. Si chiude la contese, il Beverly Inps porta a casa la vittoria, volando a quota 27 punti in classifica. Ora invece si fa difficile per il Papu l'accesso diretto alla seconda fase senza passare dai play-off.